E parliamo ancora di politiche riguardo però la presenza di ungulati che come sappiamo sono molteplici sul nostro territorio a rischio delle coltivazioni e anche della sicurezza. Intervenire subito senza attendere altri danni, altri incidenti come quello costato la vita ad un'automobilista, ma no ad iniziative clamorose oppure incentivi a deregulation o facili guadagni per persone con pochi scrupoli. Infine una proposta, destinare gli animali abbattuti a iniziative di solidarietà. Torna sul tema degli ungulati l'assessore all'agricoltura e foreste della regione toscana Marco Remaschi ribadendo la volontà di arrivare in tempi brevi a una legge regionale per frenare un fenomeno diventato incontrollabile. Numeri ed evidenze, spiega Remaschi, ci dicono non solo che i nostri valori assoluti sono enormi ma che il disequilibrio degli ecosistemi senza alcuna azione correttiva è destinato ad aumentare. Con gli attuali strumenti normativi non possiamo porci. Chi lavora in campagna, e non mi riferisco soltanto a chi ha un'impresa agricola ma pure ai singoli coltivatori, sta provando sulla propria pelle gli effetti di questo disequilibrio. Non vogliamo dare il via a iniziative clamorose, ma vogliamo che venga fatta un'attività seria, regolamentata e limitata nel tempo, attraverso una legge che preveda verifiche periodiche per monitorare attentamente i risultati. Remaschi conclude rilanciando una proposta che in altre regioni italiane ha avuto concreta applicazione. Una quota dei capi degli animali in esubero, spiega, potrebbe essere impiegata utilmente per iniziative di solidarietà, destinando la carne alle mense della Caritas o al Banco Alimentare. Questo sarebbe un ulteriore segnale da parte della regione nei confronti di tante famiglie in difficoltà che andrebbe a sommarsi a interventi e misure già in atto a favore di chi si trova in una situazione di disagio.